Una recente proposta della Giunta regionale intende sanare con una legge un percorso di illegittimità adottato sulla istituzione di un ente unico gestore delle risorse idriche. Questo sostengono numerosi sindaci che si oppongono all'Egam e sulla materia attendono una risposta del Tribunale amministrativo regionale sabato 16 aprile. La proposta di legge che è stata adottata dalla Giunta regionale, il penultimo articolo, l'articolo 17, dice le disposizioni adottate con la delibera di Giunta regionale numero 285, che è l'atto che è stato impugnato al TAR, sono espressamente richiamate con efficacia legislativa dalla data dell'errore entrata in vigore. Dopo otto mesi dalla istituzione dell'ente i sindaci hanno fatto ricorso sul presupposto che non era sufficiente una delibera di Giunta, ma occorreva la legge, la regione si è difesa dicendo che non era così, però dopo otto mesi c'è una proposta di legge che dice che tutto il percorso ha valore di legge con efficacia retrativa. La volontà dei sindaci e di alcuni amministratori era quella di seguire un percorso che non fosse fatto come purtroppo è accaduto tante volte nella storia della nostra regione, è fatto in modo superficiale. Ci è stato detto che così non era, hanno fatto una conferenza stampa anche presso la sede del parlamentino della Giunta regionale per dire che così non era. Passano sei mesi, passano otto mesi e si adotta una proposta di legge che pretenderebbe di sanare retroattivamente il percorso illegittimamente intrapreso. Probabilmente non è un modo che i sindaci hanno ritenuto di dover acriticamente subire, e quindi hanno ritenuto di attenzionarlo. Ripeto, non in una logica, mi permetto di dire a nome dei sindaci, non in una logica di contrapposizione, ma nella logica proprio di cercare di fare le cose per bene ed evitare che i malcapitati sindaci che hanno aderito forse in modo in buona fede o forse superficialmente si possano ritrovare da qui a qualche tempo anche con delle difficoltà proprio in termini di nullità degli atti adottati. Perché la stessa proposta di legge, poi lo vedrete se ci sono poi domande sul punto, che specifica che non comporta oneri per la Regione, ma da qualche parte gli oneri ci sono, quindi se non li comporta per la Regione li comporta per i Comuni. Per i sindaci molisani la gestione dell'acqua pubblica deve quindi rimanere ai Comuni, mentre con l'ente privato i cittadini andrebbero incontro ad un pericoloso salto nel buio. Per i sindaci molisani la gestione dell'acqua pubblica deve quindi rimanere ai Comuni.